buona sera a tutti ragazzi e ragazzi come state spero tutto bene io non ho perché c'ho i covip purtroppo purtroppo i covip che mi ha preso anche a me però non mi porta però io non mi ha io non io non mi rendo mai se vuoi stare con me quindi oggi siamo su quelli quel gioco degli amini che con con la testa tanta ragazzi prima di cominciare io vi voglio dire solo una cosa che che più tardi sarò in live su youtube ragazzi per aspettare il mio compleanno la la mezzanotte il mio compleanno ok adesso via con il video facciamo subito una partita speriamo che non dovrebbe segnare prima io vi ricordo che ditemi nei commenti qua sotto ok è cominciata attento ok è cominciata la partita certo amico ma che infame è questo ma che infame è questo dai raga non siamo male godo godo 1 e 1 vai 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 2 a 1 raggi sovrano raggi si va scusando godo sono giubendino no 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 una cazzata mia scusate godo gol 4 a 2 raga e 5 a 2 sono bravissimo a questo gioco qua ai ai no stava andando dentro vabbè è finita 5 a 2 ragazzi mamma mia come lo ho fatto un'altra ci facciamo subito un'altra raga con 5 a 2 ci facciamo ci facciamo no vabbè ci facciamo l'ultima partita vai abbastanza forte questo un'altra di questo ha un'altra d'autorato qua 1 a 0 no no e va manu svegliati no 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 godo ok troverà uno su subito a cubo false no e vabbè una cazzata mia godo vai e tira e 4 a 2 ma ma sei accusando ma sei accusando vado è 6 a 2 come sta accusando è qua è qua vai no vai 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 gol come scemo oddio vai no ancora è finita qui 2 partite vinte godo 4 a 7 ragazzi vai 7 te ha fatto per me aloha ok 3 ca e abbe raga io spero che questo video vi è piaciuto ovviamente la salita mi piace commentate iscritta canale noi 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 ci vi da nel nostro video bella ragazzi